Senta Brianza, una bella soddisfazione che è stata eletta la vicepresidenza, ora gli impegni sono importanti, come sempre? Gli impegni sono importanti ma li affrontiamo forti di un bel consiglio regionale con una maggioranza lega ben rappresentata, quindi il consiglio regionale sarà assolutamente determinante nell'indirizzare le politiche di regione Lombardia, avrà un ruolo principale, avrà un ruolo propositivo come l'assemblea legislativa dopo quella parlamentare più grande d'Italia e quindi ci sarà tanto da lavorare ma anche tante risposte. da poter dare, da dover dare ai cittadini lombardi. Senta, un consiglio regionale praticamente quasi completamente rinnovato con l'80% dei nuovi consiglieri? Sì, tanti giovani, tante persone nuove, questo credo che sia anche un bel segnale che comunque c'è anche un ricambio, ci sono nuove esperienze che si mettono in campo e che si formano strada facendo.